ciao ragazzi bentornati sul canale benvenuti perché la prima volta che mi vede oggi il nuovo video recensione oggi voglio parlare con voi di un libro cartaceo perché ultimamente le ultime volte vi ho parlato solo di libri in edizione che avevo letto in edizione digitale questa volta voglio parlare con voi di uno dei tre libri che mi era arrivato tramite vinted non era il libro che stavo aspettando era il libro che avevo preso perché ho visto per la prima volta dalla ragazza che mi stava vendendo gli ingani di Locke Lamora ed è questo Star Crossed un amore che sfida la furia degli dei di Josephine Angelini il primo di una trilogia è un genere fantasy genere fantasy young adult che parla praticamente di questa ragazza Ellen che a scuola ha un brutto incidente con un suo nuovo compagno e da lì comincerà a porsi delle domande fino poi a scoprire la verità su se stessa mi è piaciuto questo libro mi è piaciuto mi è piaciuto non sono così tanto entusiasta perché all'inizio mentre lo leggevo all'inizio non riuscivo effettivamente a capire dove l'autrice volesse andare a parare lo trovavo molto molto lento in realtà l'ho trovato parecchio non noioso perché noioso non è la parola giusta però non avvincente come pensavo come pensavo sarebbe stato però poi proseguendo la lettura infatti io non sono una di quelle che tenda ad abbandonare il libro se dopo qualche pagina non gli non gli piace ma cerca sempre di andare avanti nei limiti del possibile in questo caso superate le prime 150 150 pagine ha cominciato veramente a piacermi siamo entrati nel vivo della storia e quindi adesso mi sento di dire che mi è piaciuto infatti gli darei 3,5 su 5 ma fidatevi che non vedo l'ora di andare a leggere gli altri per vedere come va a finire questa trilogia è un fantasy quindi come abbiamo detto ci sono all'interno elementi sovrannaturali però quello che mi è piaciuto molto è anche il collegamento con la mitologia greca quindi con la guerra di troia con elena paride elementi che non si trovano in tutti i fantasy perché ovviamente se parliamo di fantasy la prima cosa che ci viene in mente è drago strega vampiro ecco questo libro invece è molto diverso abbiamo ovviamente gli elementi che ne fanno lo fanno diventare uno young adult quindi ovviamente i ragazzi sia al liceo alle prese con magari il proprio il primo amore eccetera eccetera anche se in questo caso anche se qua sotto c'è scritto un amore appunto che sfida la furia degli dei la presenza del filone romantico non mi ha dato problemi non l'ho trovata inutile non l'ho trovata buttata lì all'interno del libro ma l'ho trovata veramente ben descritta ben estrapolata e quindi ragazzi vi dirò mi è piaciuta davvero tantissimo anche la parte romantica quindi è un libro che mi sento di consigliare io l'ho preso su vinted perché effettivamente guardandolo è un libro l'avevo visto all'inizio quando facevo il video di vinted ecco esatto è del 2011 quindi comunque è abbastanza vecchiotto ha dieci anni non so se devo essere sincera se c'è ancora su amazon o comunque nelle librerie io anche gli altri due libri li ho trovati su vinted ora sto solo aspettando di vedere se riesco a trovare un altro paio di libri per fare un ordinone unico e poi li volevo prendere ecco questo ragazzi scusatemi ma non so non so se è ancora in vendita però comunque su vinted c'è tanta gente che lo vende sicuramente anche su altri siti quindi se volete leggerlo un modo sono sicura che assolutamente lo si trovi ve lo consiglio davvero tantissimo ripeto se all'inizio dovesse risultare un po' lento un po' poco avvincente non mi preoccupate andate avanti perché poi la solfa cambia assolutamente quindi ve lo faccio rivedere di nuovo perdonate qui il mio solito coniglietto si è fatto vedere ancora eccolo qua il titolo è grande così quindi neanche troppo grande ha circa 450 pagine si legge davvero molto velocemente e sono sicura che questo potrebbe piacere a tantissimi di voi io ho finito con questo spero di essere stata abbastanza coinvolgente che vi sia interessato questo video come al solito se vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi a tutti i canali qui sotto fatemi sapere se lo avete letto se avete intenzione di farlo oppure se avete anche letto dei libri simili che parlano di temi appunto similari a questo ok io vi saluto e vi auguro una buona giornata ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi